LIC! Ben ritrovati i miei cari avventori del Luigiona Bar Calcio. Mikhailovic ha parlato, c'è appena stata la conferenza pre-partita di Spezia Bologna e andiamo a vedere insieme che cosa ha partorito, ok? Che cosa ha orinato Siniscia Mikhailovic a questo giro. E vi assicuro, e non lo dico per tenervi incollati qui davanti a Luigiona come fareste con la vostra bottiglia di bischi barbon, ok? Non lo dico solo per quello, ma vi assicuro che ne ha dette anche a questo giro di quelle interessanti, di quelle alcoliche. Prima però di iniziare i miei carissimi avventori, vi rammento, qualora non abbiate avuto già la saggezza di farlo, clicca il tasto rosso, iscriviti al canale di Luigiona Bar Calcio, condividi questo luogo con tutti i tuoi amici di Fede Rosso Blu, digli ho trovato finalmente un canale dove si parla di Bologna a 360 gradi e lascia sempre un mi piacino ai video dell'illusione, indice di gradimento, sempre alto, sempre alle stelle. Bene, bene, i miei cari avventori, andiamo a vedere che cosa Mikhailovic ha detto. Iniziamo dal come l'ha detto. Al pronti via, uno dice, Oibo, non è miai, lo dice, ci hanno mandato il gemello sereno, tutto serafico, voce bassa, calma apparente, ok? E invece, tempo, 5 minuti di domande, si è subito di nuovo rilevato essere, come l'avevamo eticatato, tempi non troppo addietro, sinceramente, dottor Giacchi e Mistride, perché ha tirato fuori la sua causticità e il suo essere provocatorio, lui, prima degli altri. Perché lui, perché dico questo? Perché dice al giornalista che guarda caso, non so per quale motivo c'è a fargli le domande, un nuovo giornalista, non il solito, dice che le domande che gli stanno ponendo sono provocatori. Però, insomma, sai, alla provocazione poi, eventualmente, si deve rispondere con altrettanta provocazione e Mikhailovic in questo è sicuramente un re, ok? Dice una frase che me la sono scritta qua, dare sempre colpa al lupo fa comodo alle pecore. Questa è una frase di Mikhailovic, riferita ai giornalisti della stampa bolognese, perché dice, ho sentito i social e probabilmente si riferisce anche a Luigiona, ok? Ne saremo fieri, se così fosse. Visto e considerato che Mikhailovic, come tutti sappiamo, è iscritto a Luigiona Barcalcio, ecco, dice che legge e sente molti toni provocatori nei suoi confronti e, appunto, dice al giornalista, le domande che mi state facendo sono provocatori e anche a questo giro chiede quante domande sono e bisbiglia perché devo andare. A mio modo di vedere è veramente imperdonabile e incorreggibile il nostro mister, perché c'è da modo, a mio avviso, di non essere dialetticamente, quantomeno, fatemi passare il termine, intelligente, intelligente dialetticamente, mettiamola così, ok? Perché vuol dire non imparare a cambiare modalità di comunicare, ok? Perché lui dice, lui stesso dice, ho visto, ho sentito i giornali, i social e quant'altro, sicuramente ne avrà sentito di ogni, ma lui in perterrito va avanti sulla sua strada. E che cosa ha detto? Ha detto che non abbiamo ancora capito perché lui gioca per fare un gol in più degli altri, non per subirne. L'ha ridetto, l'ha ridetto, ha ridetto che lui gioca, quindi sempre con il suo spirito all'arrembaggio, perché il suo scopo è fare un gol più degli altri. Il resto non gli interessa, non gli interessa capire se esistono dei virtusismi tattici diversi da quello che lui ha imparato a fare. Lui continua su quella strada e morirà schiantandosi contro il muro che c'è là in fondo. A lui non interessa altro. Continua a ribadire gli infortuni, siamo zeppi di infortuni, dobbiamo dirlo, siamo zeppi di infortuni. Pertanto difficoltà sulle difficoltà. La squadra ne prende atto a questo punto perché siamo pieni di infortuni. Quindi infortuni, solito modus operandi, tatti tattico in campo, perché noi andiamo in campo, ricordo, non per non subire, ma per fare un gol più degli altri. Gli chiedono se questo sia il momento più difficile di quando è a Bologna, e lui dice, ironicamente, perché mai dovrebbe esserlo, se mai è stato, quando sono arrivato a Bologna, se mai lo è stato l'anno scorso, all'indomani della terza sconfitta di Torfila. Non rendendosi conto, tra l'altro, che si è fatto un autogol micidiale da solo, dicendo quest'ultima affermazione. Perché voglio ricordare che siamo a due partite sconfitte di Torfila, e se dovessimo, malauguratamente, tocchiamo lo Jäger, tocchiamo lo Jäger che porta fortuna, dovessimo perdere contro lo Spezia, sarebbe la terza partita di Torfila, dove reciteremo sconfitte, e quindi lui stesso, con le sue parole, ha aperto alla possibile crisi, a giovedì. Quindi ha rimandato la crisi eventualmente di due giorni. Se questo è un uomo dialetticamente intelligente. Non lo so, ditemelo voi eventualmente qua nei commenti, io incomincio a avere dei dubbi. Io incomincio. Dio il vero, non dico niente. Allora, rigetta il fatto che non abbia il timone saldo della squadra, perché dice che per una partita, ma è solo una partita, ma qual è quella squadra che per una partita non l'ha giocata la vacca, ma allora, ma di cosa stiamo parlando? Lui c'ha saldamente le redini in mano. Guai, guai ad affermare il contrario, perché lui sarebbe il primo a dire eventualmente il contrario, laddove fosse così, perché lui è una persona a detta sua che riconosce che riconosce eventualmente le situazioni, sarebbe il primo per onestà intellettuale a confermarlo eventualmente. Gli chiedono, il Carlino, gli fa la domanda, Carlino dove ha avuto parole al miele per Massimo Vitali che si capisce essere un giornalista, anzi, un giornalaio come lui l'ha definito, che ne sappia, Tronconi, secondo Mianovici di calcio, puvratta anche sto Massimo Vitali, gli chiede se ha parlato col Presidente e saputo e lui tutto sbigottito, sobbalza e dice no, perché dovrei averci parlato? C'è per caso una sottodomanda? Colui che appunto, colui che non immagina perché gli si faccia questa domanda, chissà perché te l'hanno fatta, Mikhailovic, chissà perché te l'hanno fatta, se l'aspettava anche lui, evidentemente, e appunto lui a questa domanda risponde che col Presidente sono amicissimi, è un santo Presidente, e vive il Presidente, è un apostolo, è un grande Presidente, quindi tutto risolto, il rapporto col Presidente è tutto risolto, però dice una cosa interessante, testualmente dice se non c'era il Covid saremmo andati avanti sulla nostra strada, ma con il Covid non è stato fatto e quindi bisogna adesso abbassare le pretese e capirlo. Queste le parole di Mikhailovic, che cosa avrà voluto dire, visto e considerato che neanche una settimana fa saputo, ha detto esattamente il contrario. Quindi, ma no, ma c'è sintonia, ma tra reparto tecnico e manageriale c'è perfetta sintonia, sono bagliori che sono dati a noi per via dell'alcol, non perché siano così, non vi preoccupate, è tutta apparenza, ci stiamo sbagliando noi, ci stiamo sbagliando noi, non vi preoccupate. Gli chiedono se domani farà giocare i ragazzi della primavera, lui smentisce, dice che siamo pieni di infortunati, per cui bisognerà stringere i denti, e anche i più vecchietti dovranno farlo, quindi dice dal primo minuto sicuramente no, si dimentica di dire, si dimentica di dire che ad esempio Dykes è tra i convocati, che tra l'altro è una domanda che gli avevano fatto, ma che lui non ha risposto perché ha preferito soffermarsi sugli assenti, giustamente, 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 piuttosto che dire che ad esempio Dykes è rientrato tra i convocati. Che dire? a me sembra un Mijelovic sedato, ma che batta il chiodo sempre sugli aspetti sbagliati, infortuni, e che appunto si può perdere con le squadre più forti sulla carta. Fino a che, secondo me, il leitmotiv è questo, e questo è il pensiero di Mijelovic che poi trasferisce i ragazzi, diventa, allora, veramente inevitabile puntare alla salvezza, ok? Perché con un approccio del genere non si può fare altro che puntare alla salvezza e se non altro allora questo a Mijelovic gli va dato atto che si deve puntare alla salvezza, lui lo dice, ok? Quindi sarà così, sarà come dice lui, non lo dice per altri motivi, sarà per questo qua. Che dire? a me ha dato l'impressione di essere un Mijelovic con dentro veramente il fuoco che non l'abbia voluto fare vedere, ok? Però io voglio ricordare che anche qua parole famose che l'assenza della paura non significa, non significa non essere arroganti o aggressivi, ok? L'assenza di paura non significa oroganza o aggressività, quest'ultima è in se stessa un segno di paura. Mijelovic, l'assenza di paura presuppone la calma e la pace dell'anima, cosa che a te in questo periodo mi sembra risultarti un po' difficile a mantenere. Non mi sembra che ci siano i prodromi per una partita serena, questo va detto, giochiamo con lo Spezia, un'altra squadra che sicuramente viene da una sconfitta molto importante 4-1 con il Crotone, quindi vorranno a tutti i costi anche loro giocando in casa fare punti. Siamo abituati a vedere un Mijelovic dove o si vince o si perde, dove non è contemplato mai il pareggio. Io dico che domani si pareggia, io dico che finisce 2-2, dico che finisce 2-2 e a segno ci vanno ci vanno Vignato e Soriano, i giocatori che probabilmente avevo detto l'altra volta che avrebbero segnato segnano a questo giro. 2-2 Vignato e Soriano per una partita che prevedo nervosa, partita nervosa, secondo me se è una partita nervosa temo, speriamo, non oso immaginare laddove si dovesse perdere, perché comunque i segnali che arrivano, le vibrazioni che arrivano dall'ambiente del Bologna a me non sembrano essere per niente positivi. Mi cari eventori, qua sotto nei commenti il vostro pronostico, attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui a Luigiorno a Barcalcio e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar si ! tu